Il vero volto dello spionaggio statunitense. Questa è la sede della CIA, la più grande organizzazione spionistica del mondo. I capi della CIA lavorano segretamente in stretta collaborazione con la Casa Bianca. Ad Alberto Maria Merli e Ramos, Mariangela Melato e Tania, la collaboratrice di Che Guevara. Riccardo Cucciolla e Pinelli. Personaggi veri, al centro di conflitti politici, di fatti realmente accaduti. Claudio Volontè e Che Guevara. George Ardison e l'agente CIA Rutherford. Pietro Valpreda interpreta se stesso. Nello stesso momento, in cinque continenti, la CIA è al lavoro per la conservazione dell'impero economico americano. Francisco Rabal e Ben Barca. Rivelati per la prima volta i delitti degli agenti segreti, dei mitici 007 con licenza di uccidere. Accanto all'alta tecnologia elettronica, la CIA ricorre alle più raffinate tecniche di tortura. Multinazionali e colpi di stato. Un film coraggioso, vero, documentato, violento. Faccia di spia, scopre gli uomini della CIA inseriti nel governo italiano. Faccia di spia, il vero volto dello spionaggio statunitense. Come il sasso in bocca che svelava i delitti della mafia, Faccia di spia è scritto e diretto da Giuseppe Ferrara. Faccia di spia, l'infermio che cello si sono ov towedano per la sua tappucca. Con fuori di liberazione delgefaccio statunitense. Faccia di sparire alta煞ata e iPhone 11. Faccia di spia, l'infermio che qualcosa diministerna di bere Corazzo le himmio assicchia per la sua tappucca mon serve.